Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video che cominciate dal titolo Innanzitutto buon anno, buone feste, alleluia, finalmente siamo nel 2020 e come regalo 2020 vi faccio già l'aggiornamento, il book manga shelf tour, farò tutto insieme quindi preparatemi perché sarà un video lunghissimo, prendetemi una tisana, una cioccolata calda, pop corn, quello che volete ma sarà veramente lungo questo video, quindi ciao! dei miei due scaffali, partirei dalle due librerie che sono appunto queste due, partirei da questa qui e lassù in cima, mi sembra che ci fossero già l'anno scorso ma non mi ricordo, sono le piantine di Ikea, quel vaso di Ikea e la fata che mi fu regalata un sacco di anni fa qui sotto nel primo piano troviamo tutto ovviamente le mie saghe fantasy, tra virgolette preferite, non è vero però qui abbiamo, innanzitutto abbiamo come tettistiche le ore della baviera, uno scogliattolo, le candele di Dream Candle dedicati a Tog, Bacchette, Porta Lucine e Fata con Rosellina perché le lucine sono già appese libri da dietro abbiamo It, tutta la saga di Twilight con diolta la carezza di Luca Terenzi Nevernight che quest'anno lo rileggerò e vedrò di farci una bella recensione Antiche voci da Salem, tutta la saga del trono di ghiaccio, scusatemi qua l'abbiamo la graphic novel di Stephanie Meere quindi di Twilight e sopra abbiamo i dati di Malva di Licia Troisi poi qua dietro abbiamo, che non si vedono però c'è, la saga del neve come cenere, ghiaccio come fuoco e gelo come notte che a me è piaciuta veramente un sacco, che vi ho ovviamente già recensito e che quasi quasi quest'anno me la rileggo di nuovo poi abbiamo tutta la saga del mondo emerso, tutta, tutta, tranne un libro che manca che è subito qua sotto che è tipo le pagine perdute, come diavolo si chiama, le storie perdute, una cosa simile che in questo ripiano, come piccolina, sopra abbiamo Harry Potter in inglese, God Break di Luca Terenzi se l'autore di quell'altro, la saga sempre dice Troisi della ragazza Drago, lo Hobbit e un sacco di roba e un sacco di roba, Fata, Punto Croce, robe varie, Tazza, Yankee Candle e la trilogia di Akotar, Akomaf e Akowar di Sarah J. Maas in inglese Tazza, Alice, Coniglietto proseguiamo sotto abbiamo un coso che non so cos'è ma ce l'ho da quando avevo due anni quindi rimarrà per sempre con me il Pop che ho tirato fuori di K9 perché la scatola è completamente rovinata e quindi siccome non va là una mazza ho detto ma si tiriamolo fuori, mi piace un botto, guardi com'è bello e lo tengo sempre con me qua, come cane fedele poi abbiamo il primo rato dell'Abra dell'Arancia, la lettura del 2020 di Topolino, anni 90, quindi Topolino apprendista mago una rosa alpina di legno e Tazza di Sailor Moon con le bacchette di zucchero dietro come libri abbiamo Shadowhunters, tutta edizione che avete sempre visto qua abbiamo le monetine di Paperopoli poi abbiamo la saga della Traversa Specchi e tutta 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 la saga di Gila Rossa della Abbey Yard e tutta la saga di Fallen sopra abbiamo Leggine Rossa in inglese e un libro che non vi ho ancora mostrato che è A Kiko di Michela Cavaliere poi vi farò vedere meglio facciamo così se riesco a prenderlo tra l'altro questo libro è pure autografato quindi non l'ho ancora letto, non so quando lo leggerò ma intanto ce l'ho sotto manga allora Granblue Fantasy, Ballad per Opera, Bloody Mary, una stella splendente cadente in pieno giorno Bloody Mary, La Corta d'Oro, Seven Garden, Final Fantasy Rising of Shield Hero, Orimia, il mondo di Run e Magic Knight Riret e tra l'altro quello là ve lo devo ancora recensire ragazzi poi abbiamo una bambolina di porcellana perché quando ero piccola facevo colizioni di queste robe cavallo da Kate Wolfhardt cartolina di Luca Comics tazza di Night Before Christmas con un sacco di penne, matite e robe Antaro bambi sempre da Kate Wolfhardt che sapete come i miei negozi preferiti in assoluto la casetta che fuma perché mi fumo dentro l'incenso e poi esce il fumeno bianca neve in ceramica ne uscì la collezione tipo una decina anni fa forse di più beh comunque sotto altri manga yeah la mia postazione preferita di là ci abbiamo Sparky Lion Boy Tutti Trannete Un Bacio a Mezzanotte Romantica Clock Romantica Clock qua dietro c'è Io Ti Salverò qua abbiamo davanti Neon Sign Amber Sailor Moon Sailor V Love Begins Clematica Show Store Idol Dreams e basta qua abbiamo una bellissima Selo Saturn guardate com'è Pucciosena nella tazza con appunto matite e robe rimaste varie diciamo quella un pochino più tra virgolette pregiata anche se c'è la matita con la punta rotta la mia bellissima Yui Candle che mi piace un sacco il colore perché non so mi dà un sacco di luce mi piace proprio qua dentro Nacandale ha fatto da me dentro ho fatto una marmellata poi abbiamo la Petite Sakura la Cardcapto Sakura Angolo Sailor Moon tutti i regali questi qua regali della mia migliore amica sia l'orologio che la piccola Sailor Moon sul gelato e poi abbiamo quella appesa che mi sembra che vi sia acquistata io da qualche parte il Carillon Carillon scusatemi che non mi ricordo dove l'ho preso l'ho preso in Germania ma non mi ricordo dove di preciso però so che era in Germania e un'altra canela fatta da me perché questa ragazzi è dentro la Yankee Candle ma non è una Yankee Candle yes sotto abbiamo tutto il reparto che comunque questa parte qua di solito la vedete durante i video soliti video sotto abbiamo l'autografo originale di Silver incorniciato Topolino un giorno tutto questo pianta con la tazzina da gatto Spyro e poi quel casino di legno dietro abbiamo Cotton Tales Panna Cotta Il Castello delle Stelle volume 2 tutti quelli di Topolino che ho raccolto finora Il Canto delle Onde sempre della Loputin sempre Loputin Francis Balate di Mezz'estate Brindille che lo devo ancora leggere Monstress che lo devo ancora leggere Tosca dei Boschi che è una delle graphic novel più belle che io abbia mai letto Mirka Andolfo con Sacra Profano Omnibus il primo volume stupendo poi dietro Nascosto che devo ancora leggere Regno dei Fans che l'ho letto l'ho acquistato un anno fa un anno e mezzo fa Popperino e tre moschettini in versione graphic novel Monster Allergy che devo finire perché ho leggere ancora questo volumazzo e lo leggerò sicuramente quest'anno Lupo Alberto tutti i miei Lupo Alberto La Bambolina di Sailor Moon Alice in Pese delle Meraviglie il manga della mia prima volta Peter Pan Le carte di Clou Topolino il gioco del mondo che è un po' simile a quello come indizione Le guide Turistiche di Popperopoli Topolina Giappomania tutte le fiabe tranne quelle di Anderson che le ho tolte perché non mi piacciono Masha e Orso fiabe landesi fiabe fiabe caldo di Natale manual di nonna papera ricettario e due libri di tecnica che possiedo ovvero le notte di salme gli occhi del drago e questa graphic novel che non l'ho ancora letto cioè mi ispiravo un sacco ragazzi e non l'ho ancora letta ma va bene così ammetto che sto andando un po' alla veloce perché sennò qua avviene un video di mezz'ora e allora sopra la seconda libreria quindi abbiamo fatto la prima libreria c'è la spada in mezzo poi abbiamo qua sopra abbiamo la fata che ho preso a Graziano Visconti che vi ho già fatto vedere in qualche vlog mi sembra bellissima stupendissima enorme fiori fiori finti e quello con le candele che le accendi e gira tutto quanto sotto abbiamo una mia altra mia foto che quando avevo tre anni fatta in Val d'Aosta quella ragazzi fatta in Val d'Aosta me lo ricordo poi abbiamo l'ultimo regalo che mi è arrivato quindi quello della mia migliore amica che è la tazza con appunto un pazzo di pan di zenzero candele di Ikea queste due tazza che ho preso da Coin Natalizia e dentro ci sono le caramelle dietro abbiamo il pop di Doraemon e il pop della colina di Petz Calimero e il tembra matita a forma di colino che mi è legato da Dada Chan bellissimo poi abbiamo il pop di Marvin del Marziano Pegasus e il gatto di Alice in Wonderland le ho messe qua dietro perché non so veramente dove ficcarmeli poi abbiamo la mia foto e il finto il finto il portatisana diciamo che io però lo uso come porta niente cioè quello per la tisana poi dietro abbiamo sopra il cavale d'inverno con Tatiana Alexander nel profondo della foresta di Holly Black la cacciatrice di fate di Elizabeth May sempre da Holly Black il re malvallo il principe crudele la saga di Nashira purtroppo secondo volume è in edizione rigida ma è stato regalato quindi non potevo scegliere ci siamo di nuovo ragazzi Nashira Narnia Corvi di Corvi e quant'altro The Queen of Turling The Queen of Turling The Queen of Turling The Queen of Turling The Fate of Turling avevo mezza intenzione di venderlo però non lo so perché non riesco a pensare di venderlo mi è successo ragazzi cioè io proprio mi sento come se questa saga fosse talmente tanto cioè mi ha preso talmente tanto cioè mi è piaciuta e non l'ho piaciuta e non riesco a venderla però vabbè sotto qui abbiamo dei cuori che pendono ragazzi ho sentito la voce nasale perché sono ancora raffreddata allora qui ho cambiato tantissime cose perché faccio un po' qui c'è tutto il mio Giappone allora Carion di nuovo bigliettino topolino biancaneve orologio farm e Fata e Koso che tiene i segnalibri allora qui abbiamo il libro di Centoiku sotto abbiamo Itadakimasu L'uomo che voleva uccidermi caduto Tokaido caduto Detectivi Anshichi che vi ho già fatto vedere questi libri molto recentemente dietro abbiamo tutti i libri sul Giappone tranne questo qua che è l'Anshichi di Seul che non c'entra la mazza il libro delle poesie l'intera saga che possiedo di Sao Murakami Ichiguro Ichikawa Ito Ogawa Shimazaki Soseki il Giappone segreto io Mr.Faranight e Yona siccome Yona sta crescendo un sacco sta andando molto avanti ho bisogno di spazio e qua ancora 4 volumi ce l'infilo poi ovviamente c'è sopra nel caso poi sotto abbiamo questa parte qua che è quella che mi piace un po' meno sinceramente ma non so come metterla meglio vuoto vuoto non lo so mi piaceva un sacco però è vuoto perché è molto vecchio ma lo ottingo Beasley Dello Sole Viking Fangirl Sign Legend del Nord primo e secondo volume The Legend of the Light Knights questo qua l'ho preso a Luca Comics La Vida delle Stoffi che ho già letto mi manca il secondo devo sacerci anche un terzo a qualche parte questo non c'è niente dentro però mi piace molto è davvero la tazza della Queen sopra c'è una fatina le mie cuffie quelle delle amie scivolano l'ora delle Stegel and Rice e non mi serve che avevo presenti questo libro e penso nemmeno questi la saga del Trono di Spade che devo ovviamente ancora leggere poi abbiamo La Candela di Nosh Weinstein al di sotto abbiamo i manga altra foto mia questa qua della Comunione abbiamo i fumetti di Charlie Brown Sao il secondo volume non c'è perché è in macchina che lo stavo leggendo Sao Yon tutta Rinata Nemura quindi tutti i manga che possiedo Kamikaze Full Moon Gentleman Sakura Chioco o il nostro venerdì Mr. Sfortun Chick Perak Karin Karin non c'entra la mazza però ci stava bene la trazza di Sichu che è il mio personaggio preferito in assoluto Fata Fata Conchiglia Conchiglia Vuoto di nuovo in realtà qua ci sono le mie spille che avevo messo nello zaino come usavo per andare a lavorare un sacco di tempo fa poi tazza questa qui l'ho presa da Kate Walford con dentro tutte le penne gomme penna più bella questa qua è la penna della Xiaomi tutte penne colorate molto molto belle porta con mini conchiglie queste qua arrivano dalla Puglia Nano sotto abbiamo il Pop Store del il Pop Store il Funko Pop della strega di Biancaneve Grimmilde adesso proviamo Acco Bowman Canza del Ribelle La sorella apertuta e basta Marmotta tazza di Dalla Baviera con dentro Sailor Moon e un portachiavi Anna dei capelli rossi in inglese i miei piccoli Funko Pop Paperino dietro abbiamo l'Opale perduto la Christian Gia il Castello del Rante di Owl il Castello in Aria la Morton la Bowman la Riley Nicola Sparks la Riley di nuovo di nuovo la Bowman e la Morton qui ho cercato di fare tipo una scala di colore che non mi dispiace ma ditemi voi se c'è cosa da poter cambiare o meno sotto sotto tengo maggiormente un'altra mia foto Narcissista qui sono tutti i libri che vendo inclusi questi no Witch non ancora non so se lo venderò Witch ma questi li vendo tutti se vi interessano ragazzi ditemelo quella da Julie dei Chemist poi dietro abbiamo il manga di Dragon Ball Super che non ci sta più Mermaid Mermaid Melody Cat Street Ikari Fujitsu Yuji Special e qua dietro vatti cuore lo torno questo dimenticato l'adio Insurgent Divergent Allegiant e la saga del cado come il fuoco freddo come il ghiaccio e il live come un respiro tu puoi inizi a mettere via qui sotto abbiamo un macello di roba abbiamo i videogiochi che vendo tra l'altro perché non ci gioco più devo metterci un po' posto qua dentro ragazzi pendulum riflessi di luce curriculum gli altri riflessi di luce perché ho sia cartoleria che il resto e che i fumetti team bride che sono messi un po' a cazzo devo essere sincera perché ho fatto dei vari video e poi li ho rimessi a caso i fumetti devo un attimo li mettere a posto omnibus il secondo che non mi è piaciuto riflessi di luce kaorutada con kiss me love me night poi abbiamo topolino l'agenda delle clump il manga di fiore di luna altri videogiochi tutti pokemon perché sono tutti pokemon team bride ellis nerdland pokemon pokemon mars mars il macello dei macelli che conoscete o mai memoria perché questa scatola non cambia praticamente mai quindi andrò molto velocemente e reggivedo secret enrique di love love bearish insieme a rock in heaven anche qua c'è un macello fujitsu yuji tutto fujitsu yuji anche qua rock in heaven rock in heaven qua sotto c'è come si chiama i love bearish minchia come sono mischiati stelle che per amore è random walk giù dei due insieme poi qua c'è sotto c'è toki miu miu i bad boy so che qualcuno che magari vede i miei video potrebbe dire come diavolo li tieni tutto anna yori dango ragazzi non so più dove ficcarmelo l'altro rasta di secret angel dust battle amore doll qui sono messi veramente male però non so come come giustarmeli ludwig e sotto ludwig in fondo in fondo in fondo abbiamo angel wars non mi ricordo se vi ho più parlato vitamin sos angel wars poi qua abbiamo il manga tutto il manga di cheshi no haro ovvero anatolia story quale diventa code breaker tadan pensavo sarebbe stato molto più lungo come video in realtà è stato abbastanza corto ragazzi quindi spero che sia un minimo piaciuto forse più le librerie che le scatole sarei sincera poiché le librerie sono a posto le scatole un po' meno vorrei fare i pulisti anche lì però è più complicato ragazzi e per oggi è tutto spero che il video vi sia piaciuto buon capodanno buon primo gennaio e buon anno nuovo e tanti auguri